Il torneo fa parte di un circuito che è stato organizzato a livello regionale e che dà la possibilità di avere una wild card per il torneo internazionale che si giocherà a Napoli ad ottobre, quindi è una chance molto importante per i giocatori che si affacciano a quello che è il circuito e la classifica internazionale. Nel pomeriggio alle 5 avremo la finale, in finale abbiamo Cozzolino che ha rispettato il pronostico e che lo davano come testa di serie numero 1 e Del Carmine, ragazzo 2002 che comunque si è ben comportato nell'arco della manifestazione e ha sorpreso e è giunto in finale. Ma insomma siamo in un momento d'oro del tennis italiano, Berrettini sicuramente ha aumentato le chance dei giovani ad avvicinarsi ad uno sport che non è più di nicchia ma è molto molto frequentato. È stato un bello spot per questo sport? Ma questo è indubbio, il tennis è stato comunque uno sport privilegiato durante tutto il periodo pandemico, a questo poi si sono aggiunti i risultati a carattere nazionale, amplificati dai risultati di Berrettini e di Sinner, però voglio sottolineare che anche la nostra provincia si sta comportando bene sia nell'ambito dell'organizzazione che delle proprie squadre ma anche dei risultati dei più piccolini, non più di due giorni fa la nostra rappresentativa in Coppa delle Province è arrivata quinta nel panorama nazionale, insomma un risultato importante visto che poi si confronta con realtà molto più importanti quali possono essere Roma, Milano, Bologna, Palermo, insomma città con molti più abitanti e molte più possibilità.